Noi siamo qua in massa perché come ho già detto l'anno scorso e tutti gli anni crediamo nelle sinergie che sono indispensabili in questo territorio per far sì che lo stesso possa raggiungere i tre parti che gli sono stati preclusi in passato. A riguardo, io avevo detto una cosa a Renato nelle prime settimane dopo l'edizione dello scorso anno, osate, sognate, cercate di volare in alto, devo dire che hanno osato e hanno sognato in grande, hanno riportato la duia in piazze più visibili rispetto a quelle del passato e hanno creato una vera e propria cittadella della duia che comprende i nostri palazzi più importanti ma anche le piazze più importanti. Abbiamo credo regalato una bella edizione della duia e quindi sono qui semplicemente a testimoniarlo e ringraziarlo di quello.